10 5 3 2 1 100 destra 4 per sinistra 4 50 destra 3 diventa 3 lunga sinistra 4 50 sinistra 4 50 per sinistra 4 per destra 4 sinistra 4 per destra 3 50 ritarda sinistra 3 20 destra 4 lunga 50 ritarda sinistra 3 chiude per destra 4 in sinistra 4 50 a rovescio destra 4 50 vai un chilometro destra 5 no sinistra 4 scusa attenzione attenzione sciccane entra a destra 100 ai vini sinistra 2 50 per destra 2 chiude 50 50 sinistra 3 per destra 3 20 sinistra 3 per destra 3 in sinistra 3 lunga subito destra 2 tornante destro per destra 4 per destra 4 subito tornante destro 20 destra 4 20 sinistra 2 per destra 3 50 50 destra 4 per sinistra 3 in destra 3 gira taglia sporco sinistra 2 chiude accenno destro 50 sinistra 3 per destra 4 lunga diventa 3 chiude in accenno destro 50 sinistra 3 sinistra 3 e il cartello diventa 2 per destra 3 in sinistra 3 per destra 3 veloce in sinistra 4 100 destra 5 sinistra 5 150 sinistra 4 20 sinistra 4 in sinistra 4 per destra 4 in sinistra 3 più 50 destra 2 gira su ponte 20 sinistra 3 per destra 4 lunga e apre 50 sinistri destra 3 subito tornante sinistro 100 destra 5 destra 5 per sinistra 5 al paletto diventa 3 subito destra 3 in destra 3 per sinistra 4 per sinistra 4 ai bini sinistra 3 gira su ponte in accenno destro in sinistra 4 in destra 4 per sinistra 3 sinistra 3 in destra 4 per sinistra 4 per sinistra 4 destra 5 sinistra 4 100 andiamo ai bini destra 3 per sinistra 3 in destra 4 in destra 4 100 destra 3 sinistra 3 20 destra 3 lunga gira subito sinistra 4 20 sinistra 3 subito destra 3 per sinistra 3 per destra 4 50 sinistra 4 20 destra 4 stai attento alla strettoia destra 3 in sinistra 4 50 destra 4 grande 100 destra 2 gira Italia 50 destra 3 lunga subito tornante sinistro 100 accendo destro per subito sinistra 3 per destra 3 per destra 3 per destra 3 lunga 20 tornante destro 50 tornante destro e sinistro bravo Andre 50 destra 4 50 sinistra 4 20 destra 4 50 sinistra 4 lunga e pieni ai diri destra 3 20 al cartello sinistra 2 chiude chiude 20 destra 5 50 per destra 5 50 destra 4 lunga subito al cartello sinistra 3 per destra 3 lunga subito sinistra 3 50 sinistra 3 lunga subito fine qui non è stata godi per destra per destra non è stato un caso si riuscirà bene tra destra indo by desiderio spesso ci sono un paese esiste per destra ora se io non è stato un paese anche un paese Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.